Professor Carugo, siamo qua oggi a parlare di questo nuovo progetto Mocar. Ci può descrivere lei in quanto responsabile scientifico i contenuti e l'impatto che ha appunto questo progetto? Il progetto Mocar ha lo scopo di cercare di identificare, usando le farmacie, e cercare di capire se i pazienti che avvertono delle palpitazioni possono avere la fibrillazione atriale, che è una aritmia molto diffusa, molto pericolosa e che può dare dei danni reparabili. Questa è l'idea, nella sua semplicità grande efficacia, quindi la possibilità di utilizzare un setting diverso da quello che è l'ospedale, quindi il territorio, per cercare di prevenire la fibrillazione atriale e prevenire l'ictus. Noi crediamo che le farmacie possono essere un ambiente adatto, opportuno in tal senso. È una sperimentazione, proviamo, ma sono fiducioso. Questa sperimentazione verrà fatta in 30 farmacie a Milano, quindi sul territorio milanese, e coinvolgerà appunto l'ospedale di cui lei è il capodipartimento. Sì, è un progetto innovativo, i primi in Italia, è un progetto, come vi dicevo, nella sua semplicità molto acuto, perché noi vogliamo vedere come sta il cuore delle nostre persone che vanno in farmacia, che magari vanno in farmacia per altri motivi. Ci aspettiamo molto, ci aspettiamo appunto di salvare tanti ictus, che poi è il messaggio che vogliamo portare oggi a conoscenza di tutti. Grazie a tutti.